Il 10 novembre sono in Florin a un segno della moglie di confessore. Il padre di Sonne Florin fuva in inglese e la mamma in a di due. Omicchia di usare nero Roma, scopo le griezi, e la uscente il padre per visitare le reliqui del sogno. Retornando da Roma, Hanels passò il Tirol del Sì e lui, se cazai in la Val Venusta, nì oz vinccao. Diù aveva diù quella legge, con in tecnici Hanels ho imbattato nominò Florin. Quaia fonte Hanels educao con tutta premura in la pietà e tema di diù. Florin vincolaus e ramos in la giadina bassa del spirituale Alexander, di cui aveva era in Donzena. Mordi e buoni vertici, ha il lucizion a ciò sorprendere il governo della casa. Il castiglio di Manaivel di Ramos veniva il di vivere di Pognus, per serguità, incontri di studi che esplondergavano gli eventi la terra. Quaia che gli augsenio doveva pervivere, stava Florin procurando il castiglio. Tras quai, entupava i eventi paupers in via, ai quali aveva al Mosnes. Quaia aveva la guardia del castiglio observava e cisava al spirituale Alexander. Per quai che aveva dato in a gada il vino, ad una paupra donna, ha la guardia voca plisciao tornare al castiglio per altri vini. Florin ha se fidava sin diù ed ampliò il ruoc con agua. L'indirà la guardia del castiglio, e il cuore davone è cisa tot al spirituale. La gente porta Florin in il ruoc e roga da darina benedicciuna, che aveva il giro. E gli augsenio, che aveva anche colmai, che si aveva esser mo' agua. Ma el sto sincerà, che aveva anche mai bubio in una scipia in vino. El c'è lì, ne aveva Florin ed i. E' un buco che aveva conti, che ti sei a me sorprendere, da dòs neven, vi e usurdarra ti il guvern della Zolmes, che ti racciaves il sacerdoci. Si ne quai s'era tre sojn Florin, e n'in liuc solitari per viver la ushko e remit in a vete shtrentja e sontja. Con dici rugar ha Alexander dominao, che Florin ha lui accettato il stan sacerdotal. Quattro suente la morte dell'Augsenio Alexander, ha enti il piavel volio flurrim per l'ur spirituale. Suente il piazzonso da pastorazione ha il sentiu la fin da sia vita, ed anche musse a suo piavel il liuc, nua ecco, e l'essi veniu s'attraus. Il vuol duos vissalti, un per sui cerpa che doveva venir s'attrausco a imprim, l'autor con la paramenta, doveva venir s'enferraus con cercle e guottes, e lui centraus con tracce silmiu. Perchè in dì venia mesi parenti a voler prendermi a malz, e lui vaes vus ne gienes festetis, qure che l'amplom coi vissi. Il 10 novembre di l'ion 1856 è il suo in mort, ed è il fove veniu s'attraus tenorsio di vissi. E vera main, i parenti hanno veni ed in zahavirt la fossa. Qure che l'am malz ha vio il vissi am farau, ha nelz che un leggerment portav quell e l'urpleid, certamente che l'adion surveniu il sogno. Quella innocenta malezia ha soim flori in giù ordinau, perchè il resti tirsias nuorsi, e che l'adion vengi buc rispondi saun per vieto siu cerpa. Con i zonzi fove soim flori in giù e non blidonze, e n'eginze aveva prida la fossa. In una nocce ha il sogno comperius agli augsenior della pleid, ed è c'nua che in zanfli e che in stuagli s'attraaren in baseglia di suo piede, della vostra realtà. Per, tir la terza visione, clomi il spirituale insieme ins responsabili, e che mondo alla pleifte fa tre stis di gina ed orazione, perchè di ulasci e conoscer sia divina volontà. L'uù si rende un tot in procession con candeilles ardentes, ed in chanzersi in santeri. Elles arvan la fossa ed amflam per gran schmervegl il sogno aung bialz ed entiersel vesi. Ella è venu slavao di giù com vien caul, e si il suo entro s'attraos e ne ne vissi da vozi l'altata su un piede, che aveva comandato. Il vino che aveva dovuto giubargiare il cerco è venu salvarsi in una botella giù sia fossa. Tutti i suoni e i suoni, che ricevevano molto indeguati da quei vieni, davantavano push-by-sounds. Per quei vieni sono in flori in se vieni, ma leghavano con una botella in ta mano.